Il Confindustria propone insieme a tutte le associazioni collegate e naturalmente le società relative che venga mantenuta l'occupazione e se il problema è naturalmente il passaggio di fronte al bacine di San Marco, anche noi siamo da quella parte, sicuramente il governo farà la sua e bisogna trovare le soluzioni veloci e impegnate nel scavare altri canali alternativi che portino naturalmente a mantenere l'occupazione al terminal di Venezia, passeggeri dove avvengono ovviamente tutti gli attracchi e difendere sicuramente l'affetto ambientale di Venezia, mantenendo quindi le rotte su Venezia, togliendole dal bacino di San Marco e garantendo quindi la soluzione al problema. Le associazioni di categoria insistono perché la marittima rimanga il punto di riferimento delle navi, mentre invece c'è la proposta del sindaco di pensare anche a Marghera come un possibile approdo. No, non si può pensare che un turista che viene a Venezia, che porta quindi indotto, che porta quindi alla città la fama mondiale, si possono portare a Marghera di fianco alle ciminiere che comunque è un porto più che altro commerciale e ovviamente industriale. La marittima è strategica perché al lato di Venezia e attraverso dei canali che possono essere dragati si può ottenere lo stesso risultato mantenendo l'occupazione e quindi difendendo le famiglie che da moltissimi anni lavorano in questo settore. E quindi noi siamo imprenditori uniti in questo fronte per conto della città, dei cittadini e dei lavoratori. Sì, e sui sindacati? Allora, lavoratori, settore industriale, categorie e sindacati sono tutti d'accordo in fronte comune per difendere questo settore strategico assolutamente, quindi abbiamo anche l'appoggio da parte dei sindacati per cui non si capisce come il governo non ascolti a questo esigente.